Chiamo a parlare Giustino Mezzalira di Veneto Agricoltura, che ci porterà ulteriori esperienze dal Veneto. Per chi non lo sapesse, Giustino Mezzalira è uno dei tre soci fondatori del CIRF, nel lontano 1999, poi diventati 10 col direttivo, ma è dei tre ideatori del CIRF. Poi continua a essere amico dell'associazione, ci sembra. Buon lavoro. Grazie Marco, buon pomeriggio a tutti e grazie per aver ricordato un tempo ormai lontano, fra l'altro fra poco facciamo i vent'anni e festeggeremo penso alla grande, è veramente un piacere vedere quanta strada hanno fatto quelle idee. Io oggi sono qui per parlarvi di un piccolo intervento, tanto per cambiare un live, come vediamo questo strumento è fondamentale per fare tante cose nel nostro paese, e spesso abbiamo a che fare quando parliamo di riqualificazione fluviale con piccoli corsi d'acqua, spesso parliamo da italiani di ambiti di risorgiva. Oggi pomeriggio fra l'altro l'amico Zanetti parlerà di un altro intervento su un ambito molto più importante che quello del fiume Sile. Quindi immagino che molti di voi non abbiano bisogno di spiegare cosa sono le risorgive, voglio solo ricordare che questi ambienti che spesso dal punto di vista del loro valore naturalistico sono veramente degli scrigni perché in pochi metri quadrati spesso racchiudono una biodiversità veramente molto molto elevata, sono l'incrocio tra un fenomeno naturale, quello dell'immagine che vediamo qui a sinistra, la risorgenza naturale in polle non regimentate, che poi è stato con i millenni regimentato fino a creare quegli ambienti che chiamiamo qui nella Val Padana e nella pianura Veneta fontanili, risorgive, eccetera, eccetera. Quindi un incrocio mirabile tra un fenomeno naturale e un'azione di regimentazione. Come stavo dicendo prima, spesso in questi pochi metri quadrati, poche decine di metri quadrati, abbiamo gli unici siti in cui in vastissimi territori possiamo trovare una grande ricchezza sia floristica che faunistica, spesso anche con specie che fanno parte della direttiva abitata e che quindi tra parentesi ci aiutano poi a portare a casa i soldini per fare questi progetti perché basta che gli metti lì la lampreda o la rana di la tasta e hai fatto il giochino. Magari vado a prendermi la rana la sera prima, la metto lì e poi dimostro che mi porto a casa la milionata dell'AIF, scherzo ovviamente. Sapete, chi ha fatto l'AIF sa quanto sia maledettamente difficile vincerne uno e poi quanto sia altrettanto maledettamente difficile arrivare in fondo senza essersi rotti la spina dorsale. Ecco, quindi nel concetto moderno di infrastrutture verdi, altre keywords che spesso utilizziamo, il reticolo dei piccolissimi corsi d'acqua di Risorgiva sono di importanza fondamentale. In questi contesti, ripeto, molto molto banali, siamo di solito alla fine dell'Alta Pianura, l'Alta Pianura è uno degli ambienti più semplificati dall'agricoltura perché abbiamo una scarsissima idrografia superficiale, non abbiamo canali di scolo, abbiamo soltanto canali rigui di derivazione dei fiumi principali e alla fine al loro piede, perché proprio geograficamente lì finisce l'Alta Pianura, abbiamo in molti contesti padanoveneti il sistema delle Risorgive. Negli ultimi anni, direi 30-40 anni, un po' dappertutto nel nostro paese si è verificato un fenomeno di gradissimo degrado, sia qualitativo che quantitativo delle acque di Risorgiva. Io provengo da un territorio che è quello della Pianura Vicentina, che poi vedremo un po' più in dettaglio e da noi, 20-25 anni fa, si è cominciato a parlare di vera e propria morte delle Risorgive, perché gli equilibri che per secoli avevano garantito la funzionalità di questi particolarissimi sistemi si sono rotti quasi tutti. Ecco, quindi vediamo qui per esempio quello che è stato il monitoraggio del livello della falda freatica nell'acquifero che sta a nord della città di Vicenza, che è di estremo interesse dal punto di vista idropotabile, perché ormai metà della popolazione veneta attinge a questo acquifero e vediamo un pericolosissimo abbassamento del livello medio della freatica. Di conseguenza a valle abbiamo uno spegnasi progressivo di tutti questi hotspot di biodiversità che sono le micro risorgive. Dall'altra parte però non è solo questo che sta compromettendo il sistema, ma abbiamo uno scadimento notevole delle qualità dovute a fattori multipli. Abbiamo una semplificazione strutturale, capofonte l'ho detto prima, spesso sono poche decine di metri quadrati, basta solo un piccolo intervento fatto dall'agricoltore frontista che ha tutti i diritti di farlo per compromettere gran parte del suo valore naturalistico. E quindi di conseguenza molte di queste biocenosi sono andate semplificandosi. Di particolare preoccupazione è la semplificazione di tipo floristico, perché spesso questi ambienti erano redditi ancora delle foreste planiziali che preesistevano alla messa a cultura dei territori. Quindi spesso troviamo specie nemorali che ci testimoniano l'antica foresta lì presente, sono acque fra l'altro molto fresche, quindi addirittura abbiamo fenomeni di discesa a valle, si trova la Mercurialis perennis per esempio, che è una tipica specie di faggetta, la si può trovare qui. Basta pochissimo per fare sparire quell'ultimo metro quadrato di anemone e anemorosa, di sigillo di salomone e così via. Quindi tutto questo ha messo a rischio la sopravvivenza sia fisica che biologica delle risorgive. E da questo è nato un diffuso fenomeno, lo vediamo dal Piemonte al Friuli, qui alla vostra Emilia Romagna, di attenzione per la rinascita. E direi che la Commissione è stata molto coerente da questo punto di vista, perché è cosciente del valore che questi microhabitat hanno e abbiamo visto molti progetti live susseguirsi in questi anni. Normalmente però questi hanno interessato soprattutto i sistemi principali, alcuni dei più importanti fiumi di risorgiva d'Europa. Ricordo che i due più importanti fiumi di risorgiva d'Europa sono rispettivamente il Sile, di cui poi ci parlerà Zanetti, e il Bacchiglione, che come sentite dal mio accento voi forse cogliete solo che sono Veneto, ma un Veneto coglie nettamente che sono Vicentino. Ecco, il mio fiume, il Bacchiglione, è il secondo fiume di risorgiva d'Europa. Non a caso abbiamo portato a casa importanti soldini, tra cui per esempio questo che vi mostro qui, l'AIFA Sorgenti Bacchiglione, Sorba, che ha permesso di riacquistare i capofonti e di ristrutturarli completamente dal punto di vista sia morfologico che funzionale. Però fino a questo momento mancava un approccio a quelle decine e decine di microfontanili che sono diffusi in campagna, spesso addirittura sconosciuti agli stessi residenti, perché devi essere magari il pesquatore o il guardiano delle acque del Consorzio di Bonifica per sapere che là in fondo nasce magari un rivolo da 10 litri al secondo di acqua, che però localmente svolge una funzione estremamente importante. Ecco, da questa idea è nato il progetto Life Risorgive. Per chi conosce un pochino l'alta pianura Veneta, questi qua sotto sono i colli berici, questa è la Pedemontana con l'altopiano di Asiago e l'Alessinia che arriva fino a Verona e qui c'è Vicenza. Qui vedete le Isofreatiche, come vedete siamo in alta pianura quindi sono molto molto pendenti e a un certo punto compare questo sciame di Puntini. Queste sono le risorgive che, come vedete, soprattutto in questi due sciami sono particolarmente fitte e questi sono le due aree dove nasce il fiume Bacchiglione e dove nasce il fiume Tesina che poi è un suo tributario di simitista idrografica si incontrano qui immediatamente a Valle di Vicenza. Praticamente la portata di questi fiumi, salvo alcuni colpi d'arieta di alcuni torrenti prealpini, è data da il sistema delle risorgive. Quindi abbiamo letteralmente centinaia di punti di risorgenza, nessuno dei quali però è un grande sistema puntiforme. Sono diffusi nella campagna e compaiono in modo così casuale quasi tra un campo coltivato e l'altro. In questa zona la fascia delle risorgive si trova a una larghezza che varia tra i 2 e i 10 chilometri, abbiamo delle zone dove la fascia è molto stretta come questa zona qui proprio a nord di Vicenza e altre zone in cui invece la fascia è più larga. Normalmente i sistemi di risorgive sono impostati su paleoalvei, in questo caso specifico sono paleoalvei del fiume Brenta. E il punto di risorgenza varia tra i 60 e i 30 metri sul livello del mare, quindi c'è una finestra molto stretta entro la quale il fenomeno si può verificare. Fra l'altro se cambiasse qualcosa di grave le risorgive non è che migrerebbero più a valle, perché più a valle abbiamo sedimenti più sottili, quindi non potrebbe esserci la risorgenza, le risorgive semplicemente sparirebbero. Il LIFE ha vari partner, come spesso succede, la cosa interessante è che si è preso in considerazione l'intero sistema delle risorgive presenti in un piccolo comune, il comune di Bressanvido, un comunetto di 8,8 chilometri quadrati, dove però su questa superficie è quasi un francobollo di pianura, sono presenti ben 43 capofonti attivi tra loro disgiunti. Una cosa estremamente importante da osservare è che questo progetto non è nato dall'alto, non è stato il Consorzio di Bonifica, la provincia, la regione che ci ha pensato, ma sono stati i cittadini che dal basso, sentendo le risorgive come identità culturale profonda della comunità, hanno detto stanno morendo, dobbiamo fare qualcosa. Da lì è nato un comitato di cittadini che poi è riuscito a mettere assieme tutte le altre forze che vedete qui elencate. È molto importante, tra gli stakeholder vediamo figurare associazioni di pescatori, ma vediamo figurare per esempio col diretti, l'associazione degli agricoltori, quelli che magari in altri contesti, ci diceva il collega prima, sono quelli che arano fino all'ultimo centimetro di terreno. A me risultano 9 minuti e 52 secondi, quindi hai ragione di dirmi che ne ho due? Benissimo, ma vado molto molto velocemente. Il progetto ha riguardato sia la riqualificazione morfologica dei 43 capofonti organizzati in 23 sistemi, seguendo 6 diverse tipologie che adesso non sto assolutamente qui ad illustrarvi, però sostanzialmente il progetto prende in considerazione il tratto in cui il fiume nasce, quindi il capofonte e la cosiddetta asta, che sono i primi 2, 3, 400 metri che stanno subito a valle del capofonte. E questo ha voluto dire soprattutto risagomatura delle sponde, ma ha voluto dire anche accordi bonari, sempre bonari, con gli agricoltori limitrofi, con acquisizioni o messa sotto servitù di utilizzo, di passaggio, i terreni. Cosa molto molto importante è stato invece il recupero vegetazionale. Qui grazie al lavoro di un centro che gestiamo come Veneto Agricoltura, il centro che si occupa di pianura e di rivegetazione delle nostre pianure, il quale riproduce tutto quello che serve dall'ultima dell'erbetterare fino alla più maestosa delle querce. Il centro coltiva circa 500 specie diverse adatte alla nostra pianura, sempre prelevando materiali in loco, quindi con una grandissima attenzione a quella biodiversità locale, si sono fatti tutti questi microinterventi che sono consistiti non nell'aspettare che la flora spontanea arrivi da sola, ma nell'andare a ricostituirla. Un altro aspetto importante che è stato preso in considerazione è stato quello della fruibilità e quindi si è cercato in alcuni sistemi di risorgiva di creare delle vie di accesso, perché come dicevo prima sono spesso queste risorgive in mezzo ai campi e la gente non si rende conto del patrimonio che ha, con alcuni piccoli interventi di connessione si è permesso che la gente adesso possa andare a piedi in bicicletta lungo alcuni dei sistemi, non tutti perché alcuni abbiamo voluto lasciarli tranquilli in mezzo ai campi, ma altri sono stati resi disponibili. Ecco, alla fine del progetto è prevista la realizzazione di un contratto di risorgiva che metterà insieme tutti gli stakeholder di cui vi ho partato prima in modo da fare un patto di lungo termine per la gestione di questo insieme. Mi piace notare che tutto questo modo di lavorare, attenzione alle piccole cose, iniziativa dal basso è perfettamente in linea con quella che è la strategia europea per la conservazione della biodiversità che dice non è dall'alto che qualcuno te lo manda giù come Zeus, un fulmine, ma sei tu che dal basso devi prendere coscienza di quanto è importante la biodiversità del tuo territorio. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Giustino. Tempi perfetti. Qualcuno ha domande? Volevo chiedere a Giustino, non so se per brevità o proprio perché è così, non ho visto azioni per rialzare la falda che era uno dei problemi da cui si è generato poi l'idea. Questo perché a Brissanvido non c'è il problema o perché ci sono altre azioni, altri progetti che si ne occupano? Sì Bruno, hai già dato tu la risposta. Questo ho citato prima, non a caso, un progetto di quelli che avete scorso velocemente. Vi invito ad andarlo a vedere i materiali che sono online. ACOR è stato un progetto live che ha preso in considerazione tutte le tecniche per la ricarica. Quindi quello è un qualcosa che si fa a monte, negli acquiferi indifferenziati che stanno sopra la fascia delle risorgive. Oggi abbiamo un set di tecniche molto ben conosciute e fra parentesi che si stanno diffondendo, per esempio le aree forestali di infiltrazione che ci permettono di riportare in equilibrio l'equilibrio della falda perché la falda si è abbassata perché ci sono stati tutto un insieme di fattori di sottrazione dall'impermeabilizzazione del suolo ai maggiori prelievi, al modo diverso in cui le piogge si manifestano sul territorio, con le ricariche artificiali fatte a monte noi rimettiamo in equilibrio il sistema. Quindi questo era un progetto che riguardava solo la morte delle risorgive che non è solo quantitativa perché manca acqua, ma è soprattutto di banalizzazione degli ecosistemi visto che gli bastano veramente due camionate di rovinacci per far fuori un intero ambiente. Grazie.